Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video tutorial, sono Efremano Amici miei, io un attimo mi nascondo qui, giusto per spiegarvi quale sfida andremo a completare oggi Allora ragazzi, siamo quella con l'ultima, quella leggendaria di Incubani, raga E questa volta ci richiederà di eliminare un mostro del cubo in maniera esplosiva e il viceversa Allora ragazzi, per chi non sapesse cos'è il viceversa, eccolo qui raga, lo possiamo anche intravedere Lo potete anche vedere dalla mappa voi quando startate una bella partita In questo caso ragazzi è spawnato a foresta figliante, ragazzi comunque la sfida è semplicissima Perché ci basterà eliminare uno zombie, un mostro del cubo Quindi o con le granate o con qualsiasi altra cosa, raga, esplosiva Quindi ragazzi io in questo caso ho le granate ma voi potrete anche avere Non si sa raga, potrete anche avere, non lo so, un ranciarazzi raga o qualcos'altro Basta che sia esplosivo, comunque ragazzi come potete vedere io la sfida sono riuscito a completarla E ho ottenuto i nuovi punti esperienza Ragazzi è una sfida veramente semplicissima, basta che vi munite di granate E tranquillamente eliminate un mostro del cubo Una veramente sfida molto molto semplice Ragazzi mi raccomando se non avete ancora fatto Iscrivetevi al canale che manca poco e mille, raga, mi raccomando E lasciate anche un bel like Qui da vostro mano di quartiere è tutto Non perdetevi tutti i video che escono sul canale Attivate, raga, mi raccomando, la campanella Io vi saluto, qui da vostro mano di quartiere come solito è tutto Raga, alla prossima, bella